La loro posizione espressa in Commissione Giustizia è del tutto personale, non è stata discussa in Assemblea con gli altri senatori, non faceva parte del programma. Spero che sia una posizione personale sua. Sua di Grillo, voi non siete d'accordo? Assolutamente no, io personalmente no. Come ne uscirete questa volta? Ora guardiamo, c'è un'assemblea stasera. Il gruppo aveva parlato di questo emendamento? Certo. Lui dice di no, a che casa legge? Questa è la loro versione, venissero a dirci ora qui. Lei ha l'impressione che anche fra i suoi colleghi quale sia la posizione? Non ho idea di quale sia la posizione tra i miei colleghi, la mia posizione è della persona arrabbiata. Lei pensa che fosse un'opinione del tutto personale questa sull'emendamento? Andate a vedere, esistono i verbali dell'Assemblea. È stato discusso? È già stato discusso? Sì, 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 ci sono i verbali, andate a guardare, è tutto sulla carta. Allora perché Grillo? Non so, questo non lo so, chiedetelo a lui, io vi dico la mia posizione. Chiedetelo a lui, lo vedete prima di me. Adesso vediamo, ci sarà un'assemblea a riguardo. Appunto, però, si crea un problema con Grillo e Casaleggio su questo reato della clandestinità. Ma lo risolviamo, dai. Grillo ha detto che è un modo per incitare i clandestini a entrare in Italia. Cosa ne pensate? Bene, ne ragioniamo oggi pomeriggio. Io rilascio dichiarazioni per il momento. È una marcia indietro, cosa sta succedendo? Deve scudere che è l'assemblea. A loro, a loro, ha detto che non era nel programma la questione della clandestinità. Ho troppa fame per fare una dichiarazione. Beh, ma sta succedendo di tutto. I suoi colleghi sono molto arrabbiati per le parole di Grillo. Abbiamo visto Romani che è uscito dicendo noi ne abbiamo discusso, non ce l'aspettavamo. Non rilascio dichiarazioni per adesso. Senatore, ma non ne va un po' della credibilità del vostro movimento se il giorno dopo che fate approvare un emendamento del genere? Secondo lei sarei cortese nei confronti della signora se rilasciasse una dichiarazione a lei. Ma io non mi offendo, guarda, non mi offendo. Per cui, prego. Avremo modo e possibilità di parlarne, diciamo, chiaramente. Ci sarà una riunione? Sì, 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 dobbiamo fare una riunione oggi. E di cosa discuterete in questa riunione? Di questo emendamento. Qual è il rischio? Che ritirate l'emendamento per seguire? Lei pensa di essere meglio del signore o meglio della signora? No, noi ci vogliamo bere tutti, per cui non si preoccupi. Io, diciamo, vi prometto che farò tutte le dichiarazioni del caso. In questo momento è un opportuno. Grazie.